Interruzione definitiva del campionato di Serie C 2019-2020. Promozione diretta in B delle prime classificate di ciascun girone e di un'altra con la media punti alta. Niente retrocessioni per quest'anno dalla C alla D. Niente ripescaggi dai dilettanti. Tutto questo è stato deciso ieri in occasione dell'assemblea di Lega Pro data l'impossibilità in diverse realtà di Serie C di applicare l'attuale protocollo medico imposto dalla federazione per il contenimento del contagio da coronavirus. Quindi priorità alla salute, come ha detto ai giornalisti il presidente di Lega Francesco Ghirelli. Questa decisione premierebbe in pratica il Monza, il Vicenza e la Regina che al momento dello stop di due mesi fa erano in testa ai rispettivi gironi e quindi salerebbero in B, seguite dal Carpi che avendo conseguito 53 punti in 26 partite ha beffato in particolare la Reggio Audace e il Bari che tutte e due avevano fatto più punti dei carpigiani ma avevano giocato più gare. Inevitabile la delusione di quelle società che avevano riportato più di 53 punti e non erano in testa e che annunceranno battaglia legale per poter giocare almeno i playoff. Le proposte concordate ieri verranno portate al Consiglio federale che potrà accoglierle o respingerle. La Cavese potrebbe dunque aver finito il suo campionato al 14esimo posto, la Paganesi al 15esimo, la Casertana al 13esimo e l'Avellino al decimo, tutte tagliate fuori dai playoff ma comunque salve. Benché piantate negli ultimi tre posti del girone meridionale, il Rieti, il Rende e il Bisceglie non retrocederanno. Verso la conclusione anche i campionati dilettantistici e la LND potrebbe assumere la stessa decisione della Serie C, proponendo le promozioni dei club primi classificati dei nove gironi della D, tra i quali anche Bitonto, Turris e Palermo. Ma la Serie C, che già prevede un format da 60 squadre, con le regole attuali avrebbe alcuni club in soprannumero, dato che arriverebbero le nove neopromosse. Si era parlato anche delle ultime ipotesi di riforma dei campionati da applicare già la prossima estate, con la conferma del format di Serie A a 20 squadre, ma con l'istituzione di due gironi di Serie B composti da 20 squadre l'uno e l'eliminazione della Serie C, sostituita da un campionato interregionale non professionistico. Un'idea per garantire una riduzione delle spese e del numero delle società professionistiche che il sistema calcio possa reggere, e anche per evitare numerosi ricorsi e portare su più squadre che al momento dello stop erano poco distanti dalle aventi diritto alla promozione. Però c'è il nodo delle NOIF, che al momento impediscono una rivoluzione così nell'immediato. Ogni modifica al format può entrare in vigore non prima che sia passato un anno dall'approvazione. E il campionato 2020-2021? L'eventuale periodo di partenza del campionato di terza serie dipenderà dall'evoluzione che l'emergenza coronavirus potrà avere. Prossimamente si terrà il Consiglio federale della FIGC, nel quale dovrebbero essere ratificati i verdetti decisi a tavolino sulla Serie C e il possibile piano di ripresa degli attuali campionati di serie A e B con varie formule sul tavolo. Ma per il futuro la UEFA ha suggerito, tra le altre cose, anche l'opzione di rimodellare i calendari dei vari campionati un po' in tutta Europa, fissandoli da primavera ad autunno. Questo perché in alcuni paesi la fine dei campionati potrebbe essere procrastinata. Ma anche perché nella parte finale del 2022 si svolgeranno i campionati del mondo in Qatar, nella penisola arabica. Nei paesi arabi, in quelli nordici e in Brasile, le squadre già giocano secondo questo calendario. Ma sotto l'aspetto climatico l'Italia, la Francia e la Spagna sono un'altra cosa.